Mario Cipollone. Roma. Santa Maria Maggiore. La cattella Paolina. Per la sua cattella funebre Paolo V 16, 05, 16, 21, spese l'astronomica cifra di 300.000 scudi, equivalenti, secondo alcuni, a 30 milioni di euro. Una mostruosità, anche se corrispondessero alla metà. Il doppio di quanto aveva previsto, sei volte quanto aveva speso Sisto V maiuscola per la sua. E si vede. Alla cattella Paolina lucicano gli occhi per la gioia degli ori, la sistina brillerebbe altrove, ma qui è mesta. La prima è sempre aperta, l'altra molto meno. La prima è continuamente illuminata e officiata, l'altra occasionalmente. Rivestita di marmi preziosissimi, la cattella Paolina ha il suo fulcro in un altare d'incredibile sfarzo, frutto del lavoro di un numero imprecisato di bronzisti. Sarebbe bastato ovunque e per chiunque. Ma non ha un uomo della superbia di Paolo V maiuscola, nella città di cui era sovrano, nella cappella che avrebbe dovuto custodirlo fino alla fine dei tempi. Volle aspettare il giorno del giudizio assistito dai migliori avvocati, col supporto dei testimoni più attendibili, circondato da tutti i talismani possibili. Per questo, ingaggiati cinque importanti pittori e una decina di scultori e stuttatori di livello, la fece decorare con un numero impressionante di bassorilievi, statue e pitture di santi, profeti e dottori della Chiesa. Vistosa la presenza di tre coppie di giganteschi personaggi, Giovanni l'Evangelista e Giuseppe, Davide Aronne, San Bernardo e Santa Tanasio San Dionigi, in stretto rapporto con Maria, scelta dal Papa come sua maggiore patrona, a capo del suo collegio di difesa. Ispirati da Cesare Baronio, il paladino della controriforma, il maitre appenser dell'epoca, i bassorilievi, le statue e le pitture raccontano miracoli, apparizioni, predizioni e la morte di tre imperatori ostili al cristianesimo, Giuliano l'Apostata, Leone v maiuscola l'Armeno e Costantino v maiuscola copronimo. Episodi e personaggi diversi che, in fondo, svolgono un solo tema, sempre uguale e quasi ossessivo. Quello, in polemica con i protestanti, della vittoria della fede cattolica sull'eresi e grazie all'intervento di Maria, più volte è diversamente raffigurata. In modo convenzionale dal cavalier d'Arpino nella lunetta sopra l'altare che ricorda la sua prima apparizione. In modo singolare invece da Ludovico Cardi, detto Cigoli, nell'Oculo della Cupola. Qui poggia i piedi su una luna disuguale, scabra, piena di cavità e sporgenze. Esattamente come, nel 1609, due anni prima, l'aveva osservata al cannocchiale il suo amico Galileo Galilei. Ed era una cosa inaudita, quasi eretica. Mai era attaduto, infatti, che la scienza correggesse la teologia. Perché la donna descritta da Giovanni al XII capitolo dell'Apocalisse, identificata da Bernardo di Chiaravalle con Maria, fino ad allora aveva poggiato i piedi su una luna, in qualsiasi fase, liscia e incorruttibile. Assolutamente perfetta, bianca e immacolata. E non poteva essere diversamente per una creatura sintesi di tutte le perfezioni e virtù. Ugualmente sorprendente è il Padre Eterno che Guido Reni affrescò sull'arcone sopra il monumento a Paolo V maiuscola. Senza che una forza superiore gli paralizzasse un braccio con me, a stare a Teodoro il Lettone, era avvenuto a un suo collega che nel VI secolo aveva osato rappresentare l'Onnipotente come Giove Pluvio. Impugna tre saette. Una destinata ai superbi, una agli avari e una ai lussuriosi. Onnisciente, sa che la cripta sottostante la cappella acollerà, nel 1835, i resti di Paolina Bonaparte. E, nel 1974, quelli del principe nero golpista Junio Valerio Borghese. Colpevole di superbi a lui, di superbi ai lussuri a lei. Sposata a Camillo Borghese, omonimo discendente di Paolo V maiuscola, Paolina è nota per essere stata la più capricciosa e chiattierata delle tre sorelle di Napoleone. Vanesi è al punto da farsi immortalare dal canova nuda, col pomo in mano come venere vincitrice, nella villa di famiglia. Secondo alcuni la sola Bonaparte a preferire, come Paride, l'amore al potere, tanto da farlo con tutti e qualche volta anche col marito. Nelle due cappelle, Sisto e Paolo V maiuscola, celebrano il mistero.